Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera parleremo di tanti argomenti che riguardano la nostra capacità come sistema paese, ma parleremo ovviamente della regione toscana, di costruire, di ricostruire laddove c'è da rifare o laddove c'è da fare da nuovo. Ci sono diverse frontiere in questo senso che hanno a che fare da una parte con le agevolazioni, il super bonus su tutte e se ne è discute molto in queste ore per quelle che sono state le nuove prospettive date dal governo rispetto a questo strumento. E dall'altra parte però la maxi opportunità che sono i fondi del PNRR che però per tanti rischiano di diventare una complicazione diciamo così, soprattutto per quello che riguarda la gestione dei fascicoli, dei progetti a livello di amministrazione comunale, ma anche forse sul fronte delle imprese. Parleremo di questo e parleremo di tanti altri argomenti con il presidente di Ance Toscana che è l'associazione dei costruttori di Lirossano Massai. Grazie per essere con noi. Buonasera. Grazie dell'invito. Allora ci sono diversi argomenti come dicevamo, c'è anche un tema legato all'occupazione, insomma la ricerca di mano d'opera è un tema molto molto importante, allora siccome la settimana scorsa insomma avete fatto una conferenza stampa per mettere insieme un po' quelli che sono i punti e anche le osservazioni dirette diciamo così al governo proprio su alcuni dei temi di cui abbiamo parlato, vediamo il servizio di Chiara Valentini, poi torniamo in studio. Dopo la crescita record del 2021 e 2022 il settore delle costruzioni segna in Toscana una battuta di arresto dovuta soprattutto ai problemi legati al super bonus e ai crediti deteriorati. Il calo degli investimenti quest'anno sarà del 5,7% fa sapere Ance soprattutto di quelli privati mentre è atteso un grosso aumento delle opere pubbliche con l'avvio del PNRR ed è proprio qui che i nodi potrebbero venire al pettine. Se Ance da un lato chiede una riforma degli enti pubblici a tutti i livelli per rientrare nei tempi, leggi incrementare il personale, anche le aziende di costruzioni rischiano l'effetto imbuto se i cantieri si aprissero tutti insieme. Non solo l'associazione dei costruttori lavora anche sul reperimento di personale, ha appena firmato un protocollo con il provveditorato delle carceri per formare i detenuti, mentre con la regione si sta muovendo sul fronte migranti. Legato al PNRR c'è poi il nuovo codice degli appalti appena approvato dal Consiglio dei Ministri, a cui accennava il Presidente Massai. Pensato in ottica di semplificazione delle procedure, preoccupa per l'ampia estensione della possibilità di assegnare appalti pubblici senza gara. Questi sono alcuni degli argomenti di cui parleremo, vediamo di andare veloci così affrontiamo più temi possibili. Intanto tra poco parleremo anche del PNRR, ne parleremo ampiamente, però prima volevo partire da un dato, quel meno 5% più o meno, che riguarda, diceva il servizio, soprattutto le opere private, perché poi partirà appunto il fronte delle opere pubbliche con i soldi del piano nazionale di presa e resilienza, ma sul fronte privato c'è stata una leggera battuta del resto, che arriva però dopo un buon periodo tutto sommato. Come sta l'edilizia toscana? Ma indubbiamente i bonus hanno dato un grande slancio, infatti se guardiamo il 2021 e il 2022 è tutto in crescita e abbiamo contribuito come settore ad accrescere il PIL in maniera importante. Poi il continuo cambiare delle normative e la mannaia finale, la chiamo così, del blocco, della cessione dei crediti fiscali hanno scoraggiato le imprese, ma non solo, hanno bloccato dei cantieri, mettendo in seria difficoltà anche le famiglie stesse. Non si può programmare dei lavori con delle normative, con delle prospettive e vorrei ricordare che molte imprese, quasi tutte quelle che lavoravano con i bonus, avevano fatto accordi precisi con gli istituti bancari e per la cessione dei crediti, facendo lo sconto in fattura ai propri clienti. Al momento in cui si sono chiuse queste saracinesche, è chiaro che finanziariamente le imprese sono in forte difficoltà e l'ultima normativa, l'ultimo decreto non ha risolto questo problema. Si legge però che le banche hanno sbloccato un po' la possibilità di... Allora, se ne parla in questi giorni, ma sarà un meccanismo perché lo sbloccano, ma devono riuscire a cedere i propri crediti che hanno nei propri cassetti a degli industriali, gruppi che stanno facendoci accordi. Quindi non sarà una cosa a breve. Per molte imprese direi che i tempi non ci sono, o si risolve questa problematica a breve o altrimenti per questo anche noi, comunque come Ance Toscana, in qualche modo ci stiamo muovendo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire che questa problematica, risolverla, è complicata perché è un po' una prasse. Il nostro paese, almeno se si parla del fatto che sostanzialmente nuovo governo, vuol dire nuove regole o comunque le regole non hanno mai una vita più lunga di un anno, un anno e mezzo perché più o meno funzionano, immagino, che per un settore come quello dell'edilizia appunto soprattutto quando si cerca di fare prospettive a medio e lungo termine sia molto complicato. Ma allora, per noi la parola chiave per le nostre imprese è programmazione perché strutturare oggi un'impresa con mezzi ma più che altro con uomini adeguati non è così semplice, poi qui si entra anche nel problema della mancanza di mano d'opera e di figure professionali. Se facciamo delle normative, come è successo con i bonus, che cambiano quasi ogni mese è chiaro che non si può andare avanti. Noi non è che ci illudavamo che il 110 durasse per sempre. Da tempo chiediamo un tavolo con la politica, con il governo per programmare una normativa che abbia una visione da qui al 2050 per esempio e che sia una normativa sostenibile sia per i condomini ma sia anche per le casse dello Stato. Quindi ci vuole certezze. Noi abbiamo bisogno di programmazione. E' appunto, come dicevamo, parola complicata diciamo nel nostro prezzo soprattutto quando si ha a che fare con la politica. Senta, tra l'altro ritorna facile dire che la programmazione servirebbe forse un pochino di più anche per quanto riguarda i fondi del PNRR anche perché lì le imposizioni dell'Europa, diciamo così, le richieste meglio dell'Europa sui tempi sono piuttosto serrate invece. 2023 per la presentazione dei progetti e 2026 per la messa in esercizio delle opere, diciamo così, per la piena fruibilità delle opere. Sono tempi che rischiano di scontrarsi. Da una parte con i problemi amministrativi, diciamo così, di gestione dei fascicoli di questo ne abbiamo ampiamente parlato e torneremo a farlo anche con amministratori locali e non solo. Ma dall'altra si comincia a paventare anche il rischio dell'effetto cosiddetto imbuto cioè che si arrivi nel momento in cui vogliono aprire tutti i cantieri del PNRR a saturare un mercato dove potrebbero venire a mancare le imprese. Glielo chiedo subito ma passiamo dal commento che ha fatto questa mattina anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, nella rassegna stampa di Andrea Vignolini perché ha parlato proprio di questo portando anche un esempio di quanto è successo a Livorno. Sentiamo. Il comune di Livorno, da questo punto di vista, mi permetto di dirlo, è tra i più attivi, tra i più virtuosi. Noi abbiamo dato il via a quattro progetti con la messa a gara, ad esempio, dell'impianto sportivo della zona Scopaia-Bastia per un valore di 3 milioni e mezzo e abbiamo lanciato la gara e fino al giorno prima avevamo la paura e la preoccupazione che non partecipassero aziende perché se non partecipavano il procedimento doveva riniziare di nuovo, si perdeva un altro tempo e si rischia di uscire dalla tempistica imposta da PNRR. Per fortuna, dico io anche per interesse, un'azienda importante si è presentata e i lavori sono stati aggiudicati e i lavori partiranno a breve, però vi rendete conto che è un'azienda quando magari passato ne partecipavano tre o quattro, quindi da questo punto di vista è preoccupante questo aspetto. Dobbiamo tutti quanti essere bravi e le aziende si dovranno strutturare, io parlo anche dei nostri territori, è una grande occasione per le imprese dei nostri territori che però devono essere strutturate, devono essere il grado di fronteggiare dei bandi con dei progetti milionari e questo è l'elemento che un po' si preoccupa. Questo è l'elemento che un po' si preoccupa, è d'accordo, ma si devono strutturare le aziende, anche quelle più piccole, per far fronte a progetti che comunque possono essere anche molto redditi. Sì, assolutamente, io ho fatto un convegno qualche giorno fa, è chiaro che il tessuto imprenditoriale nostro, ma direi un po' in tutta Italia, ma specialmente al centro-sud, è un tessuto fatto di piccole, piccole imprese che il piccolo era bello una volta, adesso non lo è più. Quindi il nostro impegno come associazione verso i nostri iscritti è anche quello di creare dei consorsi, delle reti di impresa, delle associazioni temporanee di imprese. è fondamentale fare questo, è un cambio di mentalità che non sempre viene acquisito in maniera pronta, però questa è un'esigenza. Quello che diceva il sindaco della partecipazione, a volte qualche gara va anche deserta, devo dire, però qui poi ci sono vari aspetti che andrebbero valutati, ancora oggi escono delle procedure d'appalto con dei prezzi non adeguati e escono delle procedure d'appalto dove l'elemento essenziale per la giudicazione è il ribasso. Questo non va bene perché poi se non ci sono i prezzi, visto che il lavoro in giro c'è, e poi le aziende non partecipano, io penso dipende anche da questo. Troppo spesso i tempi sono lunghi dalla progettazione all'approvazione di un'opera e in quel frangente i prezzi sono cambiati, quindi si arriva ad appaltare e non ci sono più le risorse perché non bastano quelle che erano state programmate. Quindi c'è una serie di aspetti che sono concatenati l'uno con l'altro. Senta, però su questo perché poi dopo, torniamo anche sul PNRR in generale, ma sul fatto degli appalti, insomma la nuova normativa, il nuovo codice degli appalti, uno degli obiettivi almeno era cercare almeno di accorciare quei tempi, di snellire un po' le procedure. Come lo valutate? Allora, è un codice che per quanto ci riguarda diciamo che ci si può lavorare, non è un cattivo codice. Noi come associazione siamo stati molto presenti anche in Parlamento con la politica per cercare di correggere vari aspetti che, come le sa, è uscito il codice, è stato fatto dal Consiglio di Stato, quindi c'era una serie di aspetti e devo dire che gran parte sono stati accolti. C'è ancora 4 o 5 punti che non ci convincono, però noi dobbiamo considerare che il codice non parla del progetto o del... ha semplificato qualcosa, ma il problema dell'iter a monte della gara è quello e i tempi in Italia sono troppo lunghi e qui è necessaria assolutamente una di quelle riforme che l'Europa anche ci chiede, che è quella dell'apparato pubblico. Quella è la riforma delle riforme. Se non facciamo... andava... doveva essere già fatta, forse oggi avevamo degli iter procedurali molto più semplici, lì sì che si risparmiava tempo, ma più che altro avevamo degli enti pubblici, diciamo, con del personale, con delle figure che avrebbero affrontato meglio questo periodo impegnativo, perché noi ricordiamoci che i finanziamenti del PNRR volutamente sono stati frazionati anche per i piccoli enti, ma i piccoli enti hanno questa problematica, quindi io non so se si riuscirà a trasformare tutti i finanziamenti in cantieri o abbiamo dei dubbi. Su questi dubbi mi pare che si stiano anche moltiplicando, quella di cui parla Rossano Massai, la riforma della pubblica amministrazione, è la riforma delle riforme, lo diceva lei, ed è forse anche il motivo, proprio perché l'apparato nel nostro paese ha comunque una valenza così importante, ha assunto negli anni anche una responsabilità molto grande nel far partire o meno, velocizzare o meno le opere nel nostro paese, forse proprio per quello della politica nessuno si è mai preso la briga reale di metterci le mani, però effettivamente l'architettura del nostro paese, senza uno snellimento di quello, una velocizzazione, probabilmente saremo sempre indietro rispetto ai nostri competitor o partner europei, chiamateli come volete. Se mi permette c'è anche un altro aspetto, perché se qualifichiamo gli enti pubblici può cambiare anche quel rapporto, anche questo è un elemento essenziale tra pubblico e privato, deve cambiare il rapporto come è stato in passato, noi se guardiamo avanti dobbiamo pensare che c'è comunque una rigenerazione che va comunque fatta del nostro tessuto e quindi si parla di partenariato pubblico-privato, si parla di rigenerazione urbana, è assolutamente necessario che i rapporti tra pubblico e privato siano fondati su criteri diversi. In effetti il nuovo codice, ai primi articoli, al secondo articolo parla di fiducia, quindi sembrerebbe che si vada in questo senso e questo diventa un altro elemento essenziale una volta fatta la riforma dell'apparato pubblico. Setta, volevo farle una domanda rispetto un po' a questi temi di cui stiamo parlando, perché lei prima parlava dei costi, delle materie prime o in generale di quanto costa oggi aprire un cantiere e di come cambiano anche i prezzi, perché all'inizio della puntata dicevamo, serve programmazione, una programmazione più o meno sicura, difficilmente lo si può fare la programmazione sui prezzi oppure no, perché i costi, insomma, abbiamo visto delle oscillazioni oggettivamente molto grandi nell'ultimo anno e ci aspettiamo che sarà così anche in futuro. Infatti il problema attuale delle imprese, oltre ai crediti incagliati, è quello di poter riscuotere quei sal fatti apposta per ricompensare dell'aumento dei costi. Lei consideri che le imprese non hanno riscosso ciò che dovevano avere del primo semestre 2021? Si parla di ristori del 2021, ci sono 11.000 domande in evase al Ministero e ci sarebbe anche una parte di liquidità possibile. Il nuovo codice prevede una revisione prezzi, non è quella che volevamo noi, non è quella che abbiamo chiesto noi, però il codice prevede una revisione prezzi. Ma anche questo è un altro elemento fondamentale. Se si accorcia i tempi, come dicevo prima, dalla progettazione alla procedura d'appalto, è chiaro che quest'aumento ce n'è meno e quindi gli importi che all'inizio si sono stanziati probabilmente possono essere sufficienti per l'opera. Senta, devo farle una domanda per forza, perché tanti ne parlano, insomma, effettivamente è sotto gli occhi di tutti che l'aumento dei prezzi che poi riguarda anche in generale situazioni che hanno visto esplodere realmente i preventivi e crescere esponenzialmente. Allora, in molti parlano di una sorta di bolla anche dell'edilizia che si è creata con aziende che sono nate un po' così, anche inventate, diciamo così, e forse qualcuno che alla fine non ha nemmeno lavorato così correttamente, dando anche, se vogliamo, un'idea del settore, come sostanzialmente un settore che ha guadagnato tanto, tantissimo negli ultimi mesi, anche a fronte di materie prime che si sono cresciute, ma magari non con quel delta con cui invece sono aumentati i prezzi. Lei che ne pensi? Allora, diciamo che se c'è stata un po' di speculazione, spesso c'è stata da parte dei fornitori o delle ditte che fabbricano questi materiali, quello sicuramente ci sta. A volte è stato incomprensibile rispetto al costo dell'energia o rispetto ad altri costi l'aumento di certe materie, questo è indubbio, voglio dire. Però che noi soffriamo di questa... Lei consideri che oggi, come oggi, se lei ordina certi tipi di materiali, non gli danno il prezzo, gli chiedono l'acconto, perché se non glielo paga non gli mandano il materiale, quindi questo è un esborso in più per le nostre imprese. Il prezzo glielo fanno al momento in cui glielo forniscono, perché è così oscillante che non lo fanno prima. Come si fa a lavorare in queste situazioni? Allora, se diciamo, almeno per gli appalti pubblici, c'è un meccanismo che ti ridà quello che tu spendi in più, nulla di più... Una sorta di forbice, diciamo, dentro cui si può lavorare. Teniamo conto che l'ALE che è stata messa nel nuovo codice è il 5%, quindi bisogna superare quel 5% perché venga riconosciuto l'aumento dei prezzi. E poi viene riconosciuto solo l'80%. Quindi, insomma, ci rimettiamo sempre qualcosa. Però un meccanismo, quantomeno, adesso c'è. Allora, facciamo così, vi faccio, voglio fare, aprire una parentesi anche per quanto riguarda il bonus, i vari bonus, ma in particolare il super bonus. Se ne è occupato in un minuto, come sempre, il nostro Dario Baldi. È una questione di cui abbiamo accennato all'inizio e mi piacerebbe ampliarla leggermente. Sentiamo Dario Baldi. Uno dei grandi temi che ha diviso l'Italia che produce, l'Italia che ristruttura, verrebbe da dire, è sicuramente quello legato al super bonus. Abbiamo visto anche grandi manifestazioni dal carattere politico, ma in realtà al cittadino poi è una misura che va spiegata, ma gli serve nella vita per tutti i giorni. Ma qual è lo stato dell'arte del super bonus? Ecco, al 31 marzo 2023, secondo i dati Enea recentemente pubblicati, sono 403.809 i cantieri interessati da questo provvedimento. Sono previsti detrazione a fine lavori per 80 miliardi, 72,7 miliardi invece gli investimenti ammessi, con il 79,8% di lavori già realizzati. E nel mese di marzo siamo arrivati a 4,2 miliardi di investimenti, ben sopra i 3,3 miliardi del mese di febbraio. Ecco, quindi il motore del super bonus gira ancora, ma questa misura è così importante appunto per i rifacimenti dei condomini, per la vita delle case degli italiani? E se sì, quando? Allora, su quest'ultima domanda, i numeri li abbiamo chiariti, sono tanti, tantissimi cantieri, anche con dei rendiconti importanti. Le voglio fare però una domanda. L'obiettivo, diciamo, del super bonus, che è anche quello di rigenerare il nostro parco edifici, diciamo così, sta funzionando in quei termini lì oppure no, secondo lei? Ma allora, la situazione italiana è una situazione unica in Europa. Noi dobbiamo considerare che oltre il 60% degli edifici sono nelle due ultime classi energetiche. Se si va in Francia è il 13%, se si va in Germania è il 7%, quindi questi paesi sono molto più avanti di noi. E' indubbiamente che se vogliamo andare verso questa transizione ecologica dobbiamo inventarci qualcosa. E non si può pensare di recuperare i nostri edifici da un punto di vista energetico, ma anche sismico, senza un costo per lo Stato. Perché i condomini sono costituiti da varie situazioni familiari, voglio dire, non tutti possono farcela. Quindi ecco perché serve una normativa che consenta di programmare, magari non nei tempi che ci dà l'Europa, perché non credo proprio che ce la possiamo fare, magari in un tempo più lungo. Però le dico che nell'opinione pubblica, nella società, in mezzo alla gente, questa esigenza è molto sentita. Noi imprese siamo in prima linea, siamo a contatto con il mercato. E c'è proprio l'esigenza di migliorare, al di là dell'interesse di pagare meno bollette, però c'è proprio l'esigenza di un decoro, di un risparmio, di un vivere meglio nella propria abitazione. Quindi in qualche modo questo problema va affrontato. Diciamo anche qui in maniera un pochino più strutturale, diciamo, con almeno un orizzonte temporale un po' più lungo, piuttosto che in termini di terribile. Vista la situazione italiana, io credo che dovremmo cercare anche di ottenere dei finanziamenti dall'Europa, perché altrimenti... Poi tutto ciò che è venuto fuori sui costi non è tutto così vero. Noi abbiamo fatto delle analisi, ma non solo noi gli istituti molto specializzati in questo. Abbiamo spesso, se spendiamo un miliardo sui bonus, c'è un ritorno il primo anno già quasi del 50%, poi se guardiamo a lungo c'è un ritorno oltre il 100%. Quindi è una politica che si può affrontare, affrontandola in un certo... E sono investimenti, però è la nostra salute, è il nostro vivere bene, insomma. Quindi va affrontato come problema. Aspetta, non manca molto, ma voglio fargli un altro paio di domande. Una sicuramente su un discorso che veniva fatto, insomma, che voi avete fatto, di cui abbiamo toccato appena il tema, cioè il tema dell'occupazione, diciamo così, all'interno delle vostre imprese, perché voi avete posto il problema, addirittura con progetti anche virtuosi, in qualche modo, di andare a capire anche le persone che stanno nelle cacce, insomma, chi esce, gli ex detenuti, ma così anche sul fronte immigrazione. Insomma, serve mano d'opera. Questo è un tema che noi abbiamo affrontato, ad esempio, sul settore dell'agricoltura e non soltanto sulla ristorazione. Mi pare di capire che anche per le imprese di dirle non ci sia differenza. Manca la mano d'opera. Manca la mano d'opera, assolutamente. Io vorrei ricordare che c'è stata questa lunga crisi, iniziata nel 2008, dove abbiamo perso un 50% di maestranze nel settore edilizia, maestranze che sono andate in altri settori, quindi è difficile riportarle indietro. C'è anche un aspetto, diciamo, che il nostro settore, me lo faccio dire, è visto spesso come il luogo cantiere dove c'è polvere, c'è fatica e si muore. Cioè, non è così. Oggi il nostro settore è molto tecnologico, è un qualcosa che si vede sulla carta e poi lo vediamo costruire. Cioè, noi stiamo cercando di fare anche una campagna in questo senso. Un aspetto culturale, diciamo. Sì, un aspetto culturale che deve cambiare. Però diciamo che stiamo cercando dei canali, quello delle carceri, diciamo, crediamo che sia più un aspetto sociale che poi renda chissà cosa. Però se possiamo recuperare 20, 30, 40 personaggi che sono nelle carceri e che stanno uscendo, dico, è un fatto positivo. Noi crediamo che il canale da seguire è quello degli immigranti. Sotto questo aspetto ci stiamo muovendo con la regione toscana. Abbiamo fatto un incontro con l'assessore Cioffo che ha la delega dell'immigrazione e con l'assessore Nardini che ha la delega del lavoro e stiamo creando un tavolo per vedere di, come dire, questi flussi. Poi, tenga conto... Inserirli in percorsi, diciamo. Tenga conto che nel nostro sistema ANCI abbiamo le scuole edili, abbiamo il CPT per la sicurezza. Noi siamo in grado di costruirli, questi personaggi, una volta che hanno imparato un po' la lingua italiana. Ma c'è anche un programma più ambizioso che, secondo me, dovrebbe essere, proprio dalla politica europea direi, quello di andare nei paesi da dove partono questi barconi, fare lì i corsi, prepararli, farli venire in Italia e sono già pronti per lavorare. Questo, come ance nazionale, pensiamo di aprire nel Nord Africa un paio di punti dove poter organizzare qualcosa del genere. Sì, lo sono di questo tipo. Senta, le voglio chiedere un'ultima cosa, ma velocissimo, perché siamo davvero in chiusura. Se vuole sarebbe un discorso molto ampio. Allora le chiedo io, soltanto, di porla, diciamo, se vuole, in una sorta di classifica immaginaria. La Toscana, rispetto al resto del paese, come è messa dal punto di vista, soprattutto della capacità di ristrutturare o di costruire? Ma allora, io devo dire che da quando ho questo incarico, faccio parte del Consiglio delle Regioni, del Lancio, quindi c'è contatti diretti, devo dire che la Toscana sotto vari aspetti viene presa anche, diciamo, ad esempio, si parla per esempio dei prezzari, si parla delle normative urbanistiche, si parla di tante cose. Diciamo che è una regione abbastanza virtuosa, direi, per gli interventi di recupero siamo sesti, settimi, qualcosa del genere, però è una regione che tutto sommato, diciamo, è apprezzata a livello nazionale. Non siamo gli ultimi, non siamo i primi, diciamo, ma non siamo nemmeno a metà classifica. Sicuramente è una regione che sta facendo i suoi sforzi, ma che sta avendo anche dei risultati, direi. Ci fa piacere, diciamo così, a una nota positiva in un quadro. Sì, sì, certamente, certamente. Che è oggettivamente complicato. Grazie mille, intanto, Rossano Massai, per averci aiutato a capirci qualcosa in più. Sempre credito ospite, quando vuole potrà tornare nei nostri studi, grazie. Grazie a voi, grazie a voi davvero dell'invito. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Terminiamo qui con Telegram e ci vediamo naturalmente domani. Buona serata a tutti.